Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 2 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. A lavoro anche oggi? Se siete di turno nella salità, nei trasporti, nel sociale, o avete un'attività in proprio della quale molti fruiscono con piacere, oggi siete super impegnati. A relazionarlo Mercurio tutto fare in sesta casa, mentre la luna imbronciata con Plutone in quadratura vorrebbe mettersi a riposo ma non può. Situazione più leggera per chi ha un socio, se voi sgobbate il mattino a lui toccherà il pomeriggio e viceversa. Lavoro, per giunta non remunerato, lo è anche il volontariato, ma motivo di soddisfazione per essere stati utili agli altri. Il bonus della fortuna vostro carico riguarda la salute e l'amore, settori in cui anche il sole e venere generosi anche all'opposizione, promettono sviluppi interessanti. Una nuova coppia potrebbe nascere presto e rapidamente, due persone giuste che si sono incontrati vivranno un nuovo amore e una nuova stagione. E il rapporto perfetto di coppia che si vive e si vorrebbe vivere. Presto i single potrebbero conoscere l'amore e la persona giusta potrebbe essere tra quelle già incontrate. Termine della solitudine. In fatto di investimenti di denaro sarai bravissimo solo che dovrai fare molti sacrifici. Emozioni in vista riguardo l'amore. Meglio pochi ma buoni, è proprio vero. Su Facebook dovete fare un po' di pulizia e discernere meglio chi ha secondi scopi su di voi e chi vi è veramente amico. Buone occasioni per chiarire questioni importanti che fin qui non avete saputo o voluto affrontare. Giove in buon aspetto potrebbe regalarvi qualche sorriso. Una persona che ha simpatia per voi in segreto oggi potrebbe venire allo scoperto facendosi notare. Non fatele pesare la mancanza di coraggio avuta fin qui. La vostra situazione economica potrebbe ristagnare a causa di qualche errore commesso tempo fa, riprendete presto la rendini e cercati di porre rimedio agli errori. Possibili problemi legali o burocratici. Cerca di non spendere troppo. Gli acquisti che farai oggi non ti soddisferanno. Noie con bambini anche di. Vicini o conoscenti. Venere e luna complottano per regalarvi una serata intrigante e speciale. Gli innamorati potrebbero trascorrere ore davvero liete e frizzanti. Un parente avrà bisogno del tuo aiuto. Non trascurare la salute. Creatività. Entusiasmo. Esperienze e incontri frizzanti. Potrai innamorarti. Una persona per voi importante oggi vi presterà tanta attenzione e saprà usare le parole giuste per risollevarvi da un momento decisamente complicato per voi. A contrastarvi, mediamente in questa giornata di festa dei lavoratori, si ritrovano la luna, Giove, Venere, Urano e il Sole, che vi impongono una certa sobrietà del comportamento e un comportamento in famiglia, in certi momenti, un po' in disparte. Per il resto molti corpi celesti remano a vostro completo favore. Che non siate in giornata lo si capisce subito guardando le effemeridi, la luna abbracciata al vostro astro guida Plutone in quadratura, il Sole e Venere Astri dell'amore di della felicità all'opposizione. Unico in linea con il carattere della giornata Mercurio veloce e tempestivo in sesta casa, settore del lavoro, oggi protagonista. Ecco perché sta scritto con la maiuscola. Amore ed Eros. Tra voi e il partner andrebbe tutto a meraviglia non fosse per le solite beghe familiari che si infilano di mezzo a sproposito, anche se dal luogo di residenza oggi vi trovate a qualche centinaio di chilometri. Con la vostra dolce metà potreste filare d'amore di d'accordo, ma qui il condizionale è d'obbligo, la sua gelosia supera perfino la vostra e quando due gelosi cominciano ad accusarsi a vicenda. Sono guai. Simpaticissimo il quattro zampe con funzioni da pacere, se comincia a saltellare dall'uno all'altro senza sapere a chi fare più feste vuol dire che vi vuole uniti. E un tipo autoritario come lui. Non si può far altro che obbedire. Pace fatta, con la completa vittoria dei sensi. Saturno nel segno amico dei pesci vi aiuta a trovare la strada giusta per conquistare chi vi ha letteralmente fatto perdere la testa ultimamente. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 15 al 18 del mese di novembre, avrete di fronte successi strepitosi, se avrete il coraggio di allungare la mano e di afferrare la fortuna per i capelli. I nati della terza decade con urano in angolo contrario non facciano passi più lunghi della gamba. Lavoro e denaro. Protagonista della giornata nei dibattiti, nelle letture, nei pensieri. Anche se non siete al lavoro e vi state godendo una mini vacanza vi sentite grati al cielo per avervi fatto trovare l'occupazione giusta, e alla famiglia che vi ha dato gli strumenti per arrivare dove siete. Questo non giustifica però chi si arrocca sull'isola dei famosi o nel castello dei privilegiati, il mondo è pieno di persone meno fortunate, magari anche meno capaci, ma è proprio grazie alla loro fatica che al top ci si può freggiare di titoli e godere di fama. C'è una legge segreta però che pochi conoscono, chi in alto ci sta collaboria dimenticandosi quelli di sotto. Prima o poi rotola giù e si rompe il naso. Parola di scorpione. Benessere. Sarà la luna storta anche in cielo o gli svarioni ormonali di sua produzione, saranno la stanchezza, la tensione o la partecipazione emotiva, sta di fatto che la vostra immagine allo specchio oggi non convince. Potete anche truccarvi, pettinarvi, agghindarvi ma. Quell'ombra negli occhi, quell'opacità della pelle lascia intendere che non siete in forma. Avete bisogno di coccole, di un pasto leggero e sostanzioso e di bella gente intorno, solo quella, pavoni e rapaci non fanno per voi. Denaro. La fortuna in questo momento si è un po' defilata dal vostro orizzonte astrologico. È opportuno non azzardare alcun tipo di maneggio non meditato del denaro a tutti i livelli e per tutte e tre le decadi. Per lei, se un poco ci state sperando, la pancia vi dice che i vostri desideri sono in via di realizzazione, una persona a cui pensate intensamente prova i vostri stessi sentimenti. A breve nell'aria una dichiarazione. Per lui, a pranzo da mammina, come d'abitudine, ma non dimenticate che la festa del lavoro vale anche per lei, che in vostro onore prepara una quantità di piatti bastevoli per un esercito. Fatele una sorpresa, invitatela al ristorante. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.